Era un video sporcaccione, pure la parpallina li ho fatto toccare Ciao ragazze! Ciao! Siamo qua con un nuovo video con la speciale partecipazione di Max a vostra grandissima richiesta oggi si resterà per una nuova video challenge l'ultima che avevo fatto era quella là Kiss My Challenge Kiss My Challenge Kiss My Challenge il fatto del bacio quindi se non l'avete vista andate da subito a vedere vi lasciamo tutti i link in box di informazione raggiungiamo tanti like anche per questa challenge chiediamo quanti like per Max? 100.000 allora 20.000 ok 20.000 like per Max se vi piacciono i challenge con Max se vorreste una nuova video challenge fatelo solo bene nei commenti ma adesso iniziamo subito io mi sono vestita un po' così un po' provocante per fare questa challenge un po' otto pornografica perché si chiama davvero perché si chiama Catch My Body Challenge cioè praticamente noi dobbiamo toccare delle parti del corpo bendati ci piace sta cosa è indovinare che parti del corpo solo quindi la prima cosa ci serve una benda che vuoi tu? sei pure tu vuoi fare la challenge dai iniziamo prima si bendami tu a me come faccio? togliessi capelli amore aiuto aiuto mi sto bendando mi ha preso a fermi aiuto 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 a vieni a tre parti tre parti si si metti il mio aspe che schifo che è una cosa molla di nuovo che schifo che cavolo è lo sai che massimo tre volte è una cosa spoccaccio una volta no si bebe tipo una cosa spoccaccio l'ultima volta mi toccai che cavolo è il piede no ho sbagliato e che cos'è non si può dire eh no devi dire non si può dire no ti lo dico cos'è il capezzo uau no ci ha già un peso vabbè la seconda la seconda vai aspe che cavolo è sto schifo è qua tipo è qua così no no sotto l'ascella no no e di nuovo è difficilissimo è nel gomito vai 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 in ultimo ok e di nuovo uomo che schifo questa è già la seconda eh tipo qua i baffi no no la barba no no la cosa pelosa l'orecchio il naso eh ma tu le hai fare tutte sì il naso che schifo chita nel naso dai sì il naso oh quanti sono questi ok 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 ahahah ma che sta lì doveva ove telefono casa che cos'è che cos'è la lingua oh bravo eh no ma mi devi far toccare bene lascia la mano no no io devo sentire eh è tipo qua la pancia no 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 quasi sotto l'ombelico qua guarda eh ma io tre volte devo fare poi te l'ho detto la pancia no hai detto il fianco eh qua la pancia qua vabbè vediamo l'ultima dai ma che è sei schifo no ma tu non mi fai toccare di come ma non mi fai toccare ma dai ma quante volte questa è la terza la prima cosa è Pupi la panfallina di Pupi ho vinto ha dominato babbuccia la panfallina di Pupi come buono come buono come scema hai visto che ho un video sporcazione pure la panfallina l'ho fatto toccare ho vinto buono buone mamma speravo che questo video vi sia piaciuto vi abbia strappato un sorriso vi abbia fatto piacere la partecipazione di Max è vero? 20.000 abbiamo 20.000 like e fatevi sapere nei commenti quale altra challenge potremmo fare tu che dici quale potremmo fare è una challenge un po' più spinta questa è scelta ancora è un po' più spinta